Ciao, oggi invece parliamo dei vantaggi e svantaggi dell'impianto. Quali sono i vantaggi dell'impianto? Come abbiamo già detto in video precedenti, se i due denti vicini a quelli mancanti sono sani, l'impianto permette di non toccarli. Questi quindi continuano a lavorare per conto loro, non subiscono un aumento del carico masticatorio perché l'impianto farà la sua parte e quindi la durata nel tempo dei denti vicini sarà maggiore. Il fatto di non dover devitalizzare o comunque ricoprire i denti vicini dà un indubbio vantaggio, quello del risparmio del patrimonio biologico, vale a dire lasciare i denti sani. immaginando che dopo tanti anni l'impianto fallisca e non sia più idoneo, ci troveremo di nuovo come all'inizio con la mancanza di un solo dente e i due denti vicini invece sani. A questo punto avremo ancora l'alternativa tra rimettere un impianto o andare a fare un ponte. Parlando del ponte invece abbiamo detto che il fallimento del ponte vuol dire trovarsi con tre denti mancanti, quindi con un danno biologico ma anche con una prospettiva di spesa maggiore. Un altro vantaggio dell'impianto è che quello che dal punto di vista economico se manca un dente solo e non c'è la necessità di aggiungere osso, l'impianto costa meno del ponte. Quindi se sei nella situazione di avere un dente solo mancante e avere osso sufficiente non hai molto da pensarci, la soluzione che fa per te è l'impianto. Quali sono invece gli svantaggi dell'impianto? Essenzialmente sono i tempi per eseguire la procedura. L'impianto ha bisogno di passaggi che prevedono la guarigione dei tessuti, l'osteintegrazione e durante i quali comunque è possibile chiudere lo spazio vuoto lasciato dal dente perso con delle soluzioni provvisorie per cui non essendoci più un problema estetico l'attesa maggiore rappresenta un problema relativo. Inoltre protocolli recenti permettono di stringere un po' sui tempi di guarigione, sui tempi operativi e quindi di ridurre l'attesa prima di avere un dente almeno provvisorio fisso sull'impianto. Per alcuni immaginare di mettere un impianto rappresenta una sfida molto impegnativa per motivi di ansia e di paura. Lo abbiamo già detto diverse volte in altri video, lo ribadisco, mettere un impianto però non fa assolutamente male. E' ovvio che per mettere un ponte provvisorio si devono fare la devitalizzazione e quindi ci sono alcune sedute in cui serve l'anestesia ma non ci sono conseguenze di gonfiore o presumibilmente dolore mentre per l'impianto soprattutto se c'è la necessità di innestare osso abbiamo la necessità anche in questi casi di fare anestesia ma possiamo avere successivamente un po' di gonfiore, qualche reazione che nell'altra soluzione non c'è. Tornando al discorso della paura di mettere gli impianti, se l'idea vi spaventa comunque sappiate che ho sviluppato un percorso che ho chiamato protocollo zero paura e che vi permette di affrontare le vostre paure, di superarle e quindi di risolvere i vostri problemi dentali e di guadagnare in autostima. Per concludere, l'implantologia al giorno d'oggi è una pratica sicura, indolore e che permette di riabilitare i problemi dentali in modo più sicuro senza rovinare i denti sani e in alcuni casi anche con un risparmio economico rispetto al ponte. Grazie. 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 Grazie.